E proseguiamo con il signor Miglietta, anche lui che sulla base del suo curriculum è stato individuato dall'ATM per offrirgli uno stage, visto il successo dell'anno scorso, vediamo che anche lui abbia successo. Salve a tutti, sono Eugenio Miglietta, sono un laureando della facoltà Federico II di Napoli. Ok, sono un laureando della facoltà Federico II di Napoli, terminerò la settimana prossima il mio corso di studi, infatti dopo questo evento dovrò scappare giù perché devo terminare le ultime cose per la tesi. Una tesi fatta grazie alla collaborazione dell'Ansaldo, l'Ansaldo STS, che è la società concessionaria per la progettazione e realizzazione della linea 6, la metropolitana di Napoli, che si basa su uno studio di impatto ambientale per riuscire a comprendere le interazioni che ci sono tra la costruzione di un'infrastruttura di trasporto e il sistema di componenti ambientali che insistono sull'area di studio, che è l'area di Bagnoli, un'area abbastanza difficile a Napoli perché comunque ha accolto un passato industriale. È stata la sede dell'ex Italcider, dell'ex Eternit, società che comunque hanno per anni sversato sul sottosuolo idrocarburi, metalli pesanti e quindi la difficoltà che tutto il caso porta con sé. Davvero sono lusingato per questo stage all'ATM perché condivido comunque la responsabilità ambientale dell'ATM, che è stata confermata anche prima dal collega che ha fatto lo stage l'anno scorso e devo dire la verità, mi aspettavo un intervento del genere e mi fa piacere, mi rende ancora più entusiasta di questo stage e perché comunque mi darà la possibilità di approfondire delle tematiche che ho già studiato all'università, seppur comunque a livello didattico, magari in maniera più approfondita ed è davvero comunque gratificante per uno studente. Grazie anche al comitato dei Lions, Life Ability per quello che fa per i giovani, per come li stimola e come riesce a trarre le idee dai giovani. Noi stimoliamo i giovani e devono venire fuori delle cose intelligenti, mi è piaciuta questa presentazione perché invece di presentare te stesso hai presentato il progetto nel quale ti stai immedesimando e che è quello con il quale andrai alla laurea e ti auguriamo il 110, la loda ce la stiamo mettendo noi. Aspetta che viene il rappresentante dell'ATM, l'ingegner Mantegari, il quale ci dirà due parole sull'ATM che ha rinnovato quest'anno il suo impegno con il concorso di Life Ability e poi ti darà la lettera. Va bene, ovviamente credo che l'ATM la conoscete tutti voi che abitate a Milano, sicuramente vi abbiamo lasciato a piedi almeno una volta per essere qui con tutti. Però la cosa più importante è che l'ATM non è solo trasporto, vedete bene che dietro al trasporto ci sono molte altre attività, manutenzione e anche attenzione all'ambiente. Per questo motivo sia l'anno scorso che quest'anno abbiamo selezionato due persone da avviare verso questo aspetto qua. La tensione all'ambiente è sempre maggiore, sia come inquinamento, ovviamente prodotto dai mezzi, e qui stiamo facendo degli studi su mezzi innovativi a idrogeno, li vedrete tra poco in circolazione, sia su quello che riguarda e meno visibile il recupero dei riflui delle nostre officine e dei nostri piazzali. Siamo molto contenti quindi di aver trovato un altro ingegnere con lo stesso entusiasmo verso l'ambiente e quindi abbiamo ritenuto opportuno di dare la possibilità di sviluppare uno stage verso la nostra struttura. Con piacere. Grazie. Aggiungo solo che ATM è molto avanti nelle innovazioni e mi aveva colpito quando durante le analisi dei progetti l'ingegnere Mantegari dice che questo progetto che veniva presentato come innovativo noi ce l'abbiamo già. Quindi siamo andati avanti alle fantasie dei giovani. Bene, grazie. Grazie a voi.